Sono riuscito a mettermi in pari con la seconda stagione di Loki, che è arrivata a ben tre episodi, quindi volevo dirvi un po' la mia opinione per il momento. Allora, il primo episodio, ragazzi, mi è piaciuto molto, ha un ritmo molto interessante, non ci si ferma mai, ovviamente ritroviamo i personaggi di Mobius e Loki, che è ovviamente il protagonista della serie e uno dei punti fondamentali della prima stagione, senza alcun dubbio, era l'alchimia tra Mobius e Loki. E già dal primo episodio di questa seconda stagione viene riconfermato questo dettaglio, anche perché sia Tommy Niddleston che Wilson sono attori estremamente bravi e lo rivediamo già all'interno di questo primo episodio. Infatti, secondo me, fin qui, ovvero fino al terzo episodio, uno dei punti forza di questa serie tv, di questa seconda stagione, è senza alcun dubbio i personaggi Loki, Mobius, Sylvie. Questi tre attori sono attori molto bravi, soprattutto Loki, Tommy Niddleston e Wilson. Ed è grazie a loro che, diciamo, la qualità si innalza. Devo dire che la CGI è molto buona per essere una serie tv, secondo me. La trama, diciamo che, nel secondo episodio, non va quasi per nulla avanti. Secondo me, essendo arrivata al terzo episodio, diciamo che hanno rimesso il personaggio di Sylvie un po' a forza. Perché, pensateci, se voi dai tre episodi levate Sylvie, secondo me la trama non cambia quasi molto. Il secondo episodio mi è piaciuto molto di meno perché ha un ritmo molto più lento e, inoltre, se tagliavi da quell'episodio 25 minuti, non sarebbe cambiato quasi nulla. Almeno secondo la mia personale opinione. E, comunque, sono stato contento di vedere il McDonald's. Certo, vedere Sylvie che lavora al McDonald's, porca vacca, ma che cazzo è? Comunque sia, a parte quello, non è il problema di quell'episodio. Il problema è che si poteva, tranquillamente, per dirvi, tagliare 25 minuti da quell'episodio che non sarebbe cambiato nulla. Hanno allungato il brodo in una maniera assurda, assurda. Invece, devo dire che questo terzo episodio mi è piaciuto quasi quanto il primo. Il ritmo ritorna ad essere più veloce. Ripeto, il punto di forza sono i personaggi, perché a me Loki e Mobius piacciono tantissimo. È molto merito della bravura degli attori, senza alcun dubbio. Rivediamo Ravonna, che vedremo un po' che ruolo avrà. E, ragazzi, la variante di colui che rimane è veramente troppo sopra le righe, secondo me. Solamente verso la fine, diciamo nel discorso finale della variante, vediamo la bravura, insomma, di Major. Quindi staremo un po' a vedere. Per il momento mi sta piacendo questa seconda stagione, ma con diverse riserve. Quindi voi fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, anche perché il mio cane sta abbagliando, come potete ben sentire. Quindi noi ci vediamo la prossima e, niente, ciao a tutti!